Benvenuti ad un nuovissimo appuntamento con trucchi segreti in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Vi manda un saluto Patrinox e il vostro amato Link. Continua la ricerca dei mille semi Korogu sparsi per tutto il regno di Hyrule e nel video di oggi toccherà per l'appunto la zona che si splocca tramite la Torre del Colle di Urli quindi andremo alla ricerca per l'appunto di tutti i semi Korogu sparsi qua nelle terre di Acara. Come sempre i Korogu sono tantissimi quindi direi di iniziare. A presto! Grazie. Grazie a tutti. 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 per qualsiasi vostro dubbio ed incertezza vi invito anche ad iscrivervi a questo canale se volete conoscere il mondo di The Legend of Zelda a 360 gradi se volete mi potete supportare con un super grazie lasciando tra i commenti oppure vi potete abbonare a questo canale a partire a soli 0,99 centesimi dove troverete video esclusivi a tema Zelda e avrete sconti sul mio merchandising con questo è tutto vi manda un abbraccio psicologico Paltrinox il vostro amato Link che la Dealia sia con voi e che la di forza vi accompagni ci vediamo al prossimo video adios Grazie a tutti! Grazie a tutti!